Buongiorno a tutti, allora magliettina della settimana con la frase e si prosegue a vedere come sono andate le schedine e bollettine del Gigione per quanto riguarda il campionato europeo. Siamo arrivati quasi alla fine della seconda fase e l'inizio della terza fase, terza tornata di partite per quanto riguarda i gironi. Quindi andiamo a vedere l'ultima partita del gruppo F, anzi le ultime due partite, no l'ultima partita del gruppo F, poi c'era l'ultimissima partita del gruppo E e infine le prime due del gruppo A della terza fase però. Quindi c'è da vedere Ungheria-Francia, Portogallo-Germania, Spagna-Polonia, Italia-Gales e Svizzera-Turchia. Quindi schedina 1, schedina 1 purtroppo ho fatto una cosa così così perché comunque ho sbagliato Ungheria-Francia terminata 1 a 1 perché ho messo la vittoria della Francia e ho sbagliato Spagna-Polonia terminata anche questa 1 a 1 perché ho messo la vittoria della Spagna. Le altre le avevo prese quindi Italia-Gales presa, Svizzera-Turchia presa e Portogallo-Germania presa. Quindi 3 su 5 nella schedina 1. Nella schedina 2 Ungheria-Francia ho sbagliato solo Italia-Gales ovvero 1,5. Le altre le avevo prese però purtroppo ho sbagliato. Quindi 3 su 5, 4 su 5 per quanto riguarda la schedina. Devo dire 7 su 10 siamo al 70 per cento non è male. Andiamo alle bollette del Gijaus. Bollette del Gijaus che allora bolletta delle fisse 2 su 4 perché ho sbagliato Ungheria-Francia e Spagna-Polonia va bene. Nessuno si aspettava che la Francia pareggiasse con l'Ungheria perché aveva preso tre pere dal Portogallo. È vero che li ha presi negli ultimi minuti però sempre tre pere sono. E che la Spagna pareggiasse con la Polonia 1 a 1. Polonia che ha perso anche sì la prima partita con... che ha perso la prima partita appunto. Poi c'era Italia-Gales 1 l'ho preso e Svizzera-Turchia 1 l'ho preso. Quindi purtroppo 2 su 4. Veniamo al multigol casa ospite. Purtroppo ho sbagliato il multigol ospite della Francia. 2-4 ne ha fatto solo uno di gol. E il multigol casa della Spagna. Anche qui 2-4 ne ha fatto solo uno di gol. Ho preso sia l'Italia che la Svizzera. Quindi 2 su 4 anche qui. Andiamo a vedere la doppia chance. Doppia chance prese tutte tranne Italia-Gales perché non è uscito l'over. Le altre le ho prese tutte. Ungheria-Francia ha preso. Spagna-Polonia ha preso. Svizzera-Turchia ha preso. Italia-Gales giustamente dobbiamo fare solo 1-0 e mi salta l'over. Quindi sarebbero state 7 su 8 o se preferite 3 su 4. Andiamo a vedere come è andata la questione gol casa-gol ospite. La questione gol casa-gol ospite anche in questo caso ho sbagliato, ahimè, soltanto il Galles. Galles che tra l'altro non era favorito. C'erano 3 partite su 4 in cui la squadra sfavorita diciamo non doveva segnare. Invece l'Ungheria ha fatto gol. La Polonia ha fatto gol. Il Galles no. Quindi 2 su 3 che non dovevano segnare. Il gol l'hanno fatto. Quindi stiamo tornando a equilibrarci un attimino e tendenzialmente sta uscendo una percentuale del 50%, ho visto anche l'ultimo episodio, in cui la squadra che non deve segnare segna e per il resto diciamo che è più favorito che non segni, che quindi ci azzecchi nei bookmaker, che non segni e vada vincere. Ecco, diciamo che il segni e vada vincere capita rarissimamente, siamo nell'ambito del 5% e siamo sul 50 a 40, 50 a 45 a favore della squadra che segna anche se non è favorita. però anche qui ne ho azzeccate 3 su 4. Gol più over è inutile che ve lo dico perché purtroppo due partite sono finite 1 a 1 quindi non c'è l'over. Una partita è finita 1 a 0 quindi è andata come è andata. Globalmente non mi posso anche qui lamentare visto che le schedine non sono andate malaccio, anche in questo caso come ho fatto nel video precedente mi dà un 5,5, un 5,6. Mi cospargo come sempre un po' di incensino sulla capezza, sulla caressa. Chiedo parzialmente Venia e ci vediamo al prossimo video che riguarderà appunto le ultimissime partite del campionato europeo in attesa di vedere quelle di oggi e di domani come andranno. Sperando che questo video sia online prima di mezzanotte, se no è una partita che si sono giocate ieri più quelle di mercoledì. Ciao!